Con Fernando Alonso, mondiali di ciclismo a Firenze, purtroppo per la pioggia, però è sempre un bellissimo spettacolo. Sì, molto bello, sicuramente più duro per i corridori oggi, però è così, è uguale per tutti, i più forti vinceranno come tutti i sport. Tu sei molto appassionato di biciclette e oggi non l'hai portata però. No, oggi no, oggi è solo per loro che con queste condizioni sicuramente sono supereroi, quelli che stanno facendo tanti chilometri con questa pioggia, però la gente penso vede un buon spettacolo, l'organizzazione è super. Penso che tutta la settimana, non solo adesso la prova di ruta è stata stupenda, quindi penso che per tutta l'Italia, per tutto il ciclismo è stata una grandissima settimana.